La Capitaneria di Porto di Pesaro ha un nuovo comandante che questa mattina ha preso formalmente le redini del tratto di mare che va da Gabice a Marotta. Dopo due anni di intenso lavoro che hanno cambiato radicalmente il volto e la vitalità dello scalo pesarese, il comandante di fregata Silvestro Girgenti, sotto lo sguardo del capitano di vascello Luigi Piccioli della direzione marittima di Ancona, ha dato le consegne al nuovo comandante, il capitano di fregata Maurizio Tipaldi, che arriva dal centro operativo emergenze marittime di Roma, dando vita ad una staffetta tutta romana con lo stesso capitano Girgenti, che fra qualche giorno inizierà il suo nuovo incarico presso il gabinetto del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Particolarmente partecipata la cerimonia di consegna del comando, proprio di fronte alla sede della Capitaneria di Porto, lungo calata Caio Duilio, con il prefetto Carla Cincarilli in testa e tutte le maggiori cariche civili e militari a salutare il nuovo comandante. A pochi metri è ormeggiata anche Goletta Verde, che proprio in questi giorni sta visitando le acque delle nostre coste per una campagna di sensibilizzazione ambientale. Nel suo discorso di commiato, il capitano Girgenti ha voluto evitare la fredda esposizione di cifre, ricordando però i grandi progressi compiuti dal porto di Pesaro negli ultimi anni, dall'aumento del traffico passeggeri all'arrivo delle prime navi da crociera. Dalla rinascita della cantieristica, con un gioiellino come il cantiere Rossini, specializzato nel refitting dei grandi yacht, al piano di investimenti e migliorie che hanno reso il porto più sicuro e più bello, anche se una parte dei lavori deve essere ancora compiuta secondo il piano definito appunto Porto Bello. Immancabile il riferimento alle emergenze che hanno messo a dura prova gli uomini della Guardia Costiera negli ultimi anni, dall'incendio che ha devastato il San Bartolo la scorsa estate alle operazioni di disinnesco degli ordini bellici di Fano, Pesaro e Marotta. Le prime impressioni sono state assolutamente positive, il collega e amico Silvestro Girgenti mi ha lasciato una capitaneria e un territorio compartimentale estremamente ben avviato, una squadra, un equipaggio ben addestrato e soprattutto professionale, che conosce bene il proprio lavoro e quindi mi vado ad inserire su una traccia ben delineata e positiva. Lei conosceva già la realtà di Pesaro? Allora direttamente no, però attraverso amici e parenti che vivono nelle Marche, insomma avevo già sentito parlare benissimo della città di Pesaro, quindi mi auguro che queste mie aspettative si concretizzino. Bene, grazie comandante e benvenuto a Pesaro. Grazie a lei e un saluto a tutta la cittadinanza pesarese. Ufficiali, sotto ufficiali, graduati, marinai, in nome del capo dello Stato. Prese il gol!